Ma respira! Uuuuh! Dio che schifo! Ma qualcuno chiami un'ambulanza, no? Ok, ok. Ci penso io. Speriamo che non muoia qui. Vabbè, che facciamo? Eh, non so, diamo io dell'acqua. Non ce l'hai dell'acqua? Si, vado a prenderla. Oh, sto andando arrivando. Oh, per me un'altra birra, grazie. Senti qualcosa? Aspetta che non si respira. Amore, respira, tranquilla. No, io non sento niente. Eh, vabbè, allora è morto. Oddio!